Sì, non lo muoio! Sì, non lo muoio! Questo è tutto! Sì, non lo muoio! Sì, non lo muoio! Sì, non lo muoio! 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 Hm, forse sono troppo nervoso! Sì, non lo muoio! Sì, non lo muoio! Sì, non lo muoio! Oh, no! Sì, non lo muoio! Sì, non lo muoio! Sì, non lo muoio! Sì, non lo muoio! Calma! Wow! Dang! Umano è un puo' salvarsi! Umano ci desconga pure! Umano ci desconga pure! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Violazione di sicurezza neutralizzata. Ora gli ospiti possono entrare e uscire liberamente. I dipendenti possono tornare al lavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.